Enzo Mardinis, che tra l'altro si è anche prodigato per l'organizzazione dell'Evento. Enzo, dove sei? Alcavi, Alcavi. Appassionato pittore, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni di famosi dipinti francesi, Van Gogh e Monet in particolare. Appassionato pittore, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni dell'Evento. Appassionato pittore, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni dell'Evento. Appassionato pittore, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni dell'Evento. Appassionato pittore, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni dell'Evento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.